Di Piero giunta, sabato in un orario insolito, alle 20.30 si è disputata al Palatricomi di Rosolini Arcobaleno-Aquile-Molfetta. L'Arcobaleno ispica perde la partita casalinga della quinta giornata di andata del campionato di Serie A2 e Girone D contro la squadra pugliese dell'Aquile-Molfetta per 6-4. Diciamo subito che i ragazzi spicesi del presidente Angelo Galifi hanno dato tutto in campo, ma hanno trovato dall'altra parte una squadra ben messa nel parquet del Palatricomi che è riuscita a vincere la gara. Già al secondo minuto gli ospiti vanno in vantaggio con Erario, al sesto minuto arriva il pareggio ispicese con Aaron Nimocobo. Il raddoppio per la squadra ospite arriva al diciottesimo con Rivera e Spinar e dopo un minuto il 3-1 che chiude il primo tempo è di Adami. Nel secondo tempo un arcobaleno che entra in campo determinato gioca e ribalta il risultato portandosi sul 4-3 con due reti di Giovanni Corallo, alla secondo e all'ottavo e un all'undicesimo di Andres Caronimo Perez. L'Aquile Molfetta non molle pareggio al tredicesimo con Toma, passano solo due minuti e la squadra ospite passa in vantaggio con Di Benedetto. Mister Marcello Mittelman inserisce il portiere di movimento, ma è l'Aquile Molfetta a chiudere la partita sul 6-4 trovando il gol con Murolo a 30 secondi dalla fine. C'è da dire che il portiere ospite ha parato due tiri di Giovanni Corallo che hanno fatto gridare al gol. Sabato prossimo un'altra partita difficile per l'arcobaleno che andrà a fare visita al città di Melilli, reduce del pareggio esterno conquistato contro il Sicurluber Galbuto.